Domani si vota in Romania per il rinnovo del Parlamento ed è un problema che ci interessa perché qui in Italia ci sono tantissimi cittadini rumeni che lavorano e vivono. E allora i rumeni residenti in Italia potranno votare anche a Bari domani dalle 7 alle 21 nel seggio che sarà allestito a Palazzo di Città nel municipio. Ci sarà un diplomatico dell'ambasciata di Romania in Italia a presiedere le operazioni di voto.